Quello di pensare a una città più accessibile, più umana, così come la campagna di sensibilizzazione che da settimane sta portando avanti Rete Veneta, sta coinvolgendo realtà tra le più diverse, perché piano piano in tanti si stanno rendendo conto che, come a diversi livelli, le barriere architettoniche, fisiche e mentali siano presenti più che mai, come ammette anche il direttore sanitario dell'Ulset Pedemontana, Bortolo Simoni. Non sempre è facile perché le progettazioni di anni fa non tenevano conto, c'è tutto un tema di viabilità, c'è un tema di mezzi di trasporto pubblici, c'è un tema di disponibilità di aree, di piste ciclabili integrate con, diciamo, insomma, di poter facilitare la vita delle persone disabili in modo diffuso, in modo, direi, sulle esigenze quotidiane che sono tante e a volte è difficile cogliere. Non sempre, appunto, lei diceva difficile cogliere, perché proprio non ci si pensa molte volte. Non ci si pensa, noi siamo sollecitati, siamo stati sollecitati banalmente dagli spazi di accesso ai parcheggi, al posizionamento della macchina, a dove si mette anche uno sportello, un ufficio banalmente, no? Avere la possibilità di operatori che abbiano coscienza di questo e possano cogliere la difficoltà di una persona. Insomma, Rete Veneta ha lanciato un messaggio, si è fatta portavoce della giovane Beatrice coinvolgendo tutti per realizzare il suo sogno e pare che sempre più persone rispondano a questa chiamata collettiva. Rete Veneta ha lanciato un messaggio, si è fatta portavoce della giovane Beatrice coinvolgendo tutti per realizzare il suo sogno. Grazie a tutti.